Chiudere o no il San Giovanni di Dio, Asle di Agrigento e dirigenti dell'ospedale del Genio Civile si sono seduti attorno ad un tavolo per decidere un'eventuale messa in sicurezza dell'ospedale di Agrigento che secondo la procura sarebbe stato realizzato con calcestruzzo di qualità scadente. Dopo la raffica di 22 avvisi nei confronti di manager, imprenditori, tecnici e direttori di lavori a nessuno piace prendersi questa responsabilità. Una decisione però che non potrà più essere rimandata quando fra qualche giorno si conoscerà l'esito della perizia disposta dai magistrati per verificare la stabilità dell'ospedale San Giovanni di Dio. La perizia è stata estesa a tutta la struttura ospedaliera per accertare eventuali problemi nella staticità, mentre indagini puntano anche a verificare se ci sono state irregolarità nell'appalto e nell'esecuzione dei lavori. Secondo indiscrezione i risultati dei primi carotaggi, ovvero prelievi di campioni di cemento dei pilastri portanti dello stabile, sarebbero sconfortanti. Emergerebbe che in almeno 15 casi la sabbia era più del cemento. Ad occuparsi della perizia un solo consulente, lo stesso che nei mesi scorsi, ha lavorato all'indagine dell'ospedale Sant'Elia dei Caltanissetta, sequestrato in un'altra indagine perché realizzato con un meccanismo simile. D'ambienti giudiziari si apprende che allo Stato non è compito della magistratura disporre l'eventuale chiusura precauzionale dell'ospedale, che ha 400 posti letto e serve una fetta importante della città, visto che la consulenza disposta è ancora in corso. Grazie Grazie